Per loro invece questa è la seconda esperienza all'europeo per loro come coppia da quando gareggiano insieme. Loro infatti hanno iniziato la loro collaborazione nell'estate del 2011 e sono i campioni nazionali. Dunque andiamo subito a seguirli. Intanto proprio la coppia georgiana che abbiamo appena visto insieme ha ottenuto il punteggio per la qualifica. Quindi il 44-94 è stato importante. Sì, intanto cominciamo a vedere in questo 44 quante coppie sono racchiuse proprio in un punto, in meno di un punto e lì però può essere proprio la zona dove si può decidere la qualifica o meno. Quindi vedremo, sarà una bella gara. Una grande sfida davvero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Problema all'inizio dei twizzle ma sistemato molto bene. Bravo, recuperato benissimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Carini, molto carini. Questa coppia rappresentante della Repubblica Ceca. Loro sono allenati da Muriel Zazui e da Oliver Schoenfelder che proprio qui a Zagabria nell'europeo del 2008 ottenne, insieme a Isabel De Lobel, ottenne proprio la medaglia d'argento. La cosa straordinaria è che vedremo ancora in gara tanti atleti che già a Zagabria 2008 gareggiarono e tra questi ricordiamo una su tutte. e brava la nostra Carolina Costner. Carolina Costner proprio qui a Zagabria ottenne la seconda medaglia d'oro della sua carriera nell'europeo. La prima medaglia d'oro l'aveva ottenuta nel 2007 a Barsavia, poi a Zagabria proprio nel 2008 ottenne l'oro e poi una carriera straordinaria iniziata già da Lione con il bronzo nel 2006. Poi nel 2007-2008 l'oro, nel 2009 a Helsinki l'argento, nel 2010 Tallinn l'oro, poi a Berna l'argento e poi lo splendido oro della passata stagione a Sheffield. Carolina Costner dunque difenderà la sua corona di regina d'Europa così come farà lo zar, come farà il Plushenko, un genio di Plushenko. E il genio di Plushenko è davvero straordinario, per lui questo sarà l'undicesimo europeo, sette volte campione europeo, tre medaglie d'argento e il primo proprio podio l'ottenne proprio a Milano nel 1998. 1998. Stiamo parlando veramente di un atleta dalla carriera straordinaria, tutte le attenzioni sono catalizzate su di lui, ma non dimentichiamo che qui nella gara maschile c'è anche Thomas Werner che difende il suo titolo proprio conquistato a Zagabria nel 2008. Così come ancora in gara ci sono i campioni della coppia d'artistico, Safchenko-Solkovi, che qui ottennero la medaglia d'oro. Quindi davvero incredibile e poi vi posso anche ricordare Tavaguti Smirnoff che ottennero il bronzo nelle coppie d'artistico, lo stesso Joubert che ottenne il bronzo nella gara maschile e li vedremo ancora in gara. Quindi davvero straordinari. Per fortuna vedi il pattinaggio sta diventando uno sport un po' longevo. Esatto, dopo generazioni e generazioni dove a 18 anni si diceva basta, ha finito, quest'atleta ha chiuso, deve smettere, invece adesso vediamo che almeno in alcune discipline riescono ad arrivare tranquillamente anche oltre i 30 anni e questo fa piacere. Ed ecco allora il punteggio, iniziamo a vedere altri punteggi, Franca, perché questo 50 e 52 è davvero un punteggio importantissimo, li porta in testa alla classifica e dunque questi ragazzi della Repubblica Ceca sono i nuovi leader e quindi bisognerà ancora aspettare, guarda veramente Federica Testa.